Oltre 90 scienziati e professionisti provenienti da 19 paesi, esperti di discipline della geofisica, dell'ingegneria sismica e geotecnica, che si sono dati appuntamento all'Aquila per una serie di incontri legati allo studio di ciò che succede ai nostri piedi, o meglio nel sottosuolo, nel cuore della terra, ricavando informazioni sulle strutture geofisiche. Incontri, seminari e indagini sul campo che andranno avanti fino al 12 marzo nell'ambito di un grande progetto europeo in collaborazione con l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia Italiano e il Corrispettivo Francese e con la Regione Abruzzo. Tra le giornate di studio, quella di oggi dedicata all'apprendimento e all'utilizzo delle tecniche per l'analisi delle vibrazioni sismiche e ambientali per la caratterizzazione sismica del territorio, con decine di giovani aspiranti scienziati degli NGV che imparano i ferri del mestiere nella location particolare di Colle Maggio. Stiamo installando un array sismico composto da diverse stazioni sismiche configurate in un certo modo per la registrazione di rumore sismico ambientale. Lo scopo è appunto quello di registrare il rumore sismico ambientale per ricavare informazioni sulle strutture del sottosuolo. Attualmente i ragazzi stanno imparando ad installare una stazione sotto la supervisione di professori e ricercatori dell'Università di Grenoble e dell'INGV dell'Aquila e di Roma. L'idea appunto è quella di insegnare ai nuovi studenti di queste tecniche avanzate sia di installazione di stazione sia per l'analisi dei dati. Ci sono due motivi principali per cui è stato scelto qui l'Italia. Uno perché queste attività sono molto usate in ambito di microzonazione sismica in Italia e due perché abbiamo una storica collaborazione anche nel progetto europeo Sera.